Matteo Salvini, nato a Milano il 9 marzo 1973, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno da giugno 2018 a settembre 2019. Oggi sono a processo e rischio il carcere, perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato. Mamma mia! Dai, 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 attenzione che va sotto la barca! Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa o processato per aver difeso i confini del proprio paese. È andato sotto! È andato sotto la barca! L'articolo 52 della Costituzione italiana recita Ma è morto? Eh io non lo vedo, non lo vedo! La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Là, 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 là! Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Oh, santo Dio, guarda! Mi dichiaro colpevole L'ha perso, ragazzi! Mamma mia! Dov'è? Dov'è? Di aver mantenuto la parola data. Oh, santo Dio, guarda! Oh, santo Dio, guarda!